Un pignoramento di immobili e terreni nell'ambito del nuovo porto turistico di Imperia per recuperare crediti per circa 18 milioni di euro. L'azione è stata avviata al Tribunale Imperiese dal Monte dei Paschi di Siena, una delle sei banche a favore delle quali era stata stipulata la famosa ipoteca da 180 milioni per la costruzione del nuovo bacino turistico. È facile immaginare che l'azione di MPS sarà presto imitata anche dalle altre cinque creditrici, sebbene appaia quanto meno singolare la richiesta di pignorare beni in area demaniale per giunta di una società dichiarata fallita, quale la Porto Spa, basandosi peraltro su un'ipoteca che ancora oggi non si è capito se debba considerarsi effettivamente valida. Sta di fatto però che l'ufficiale giudiziario ha notificato ieri il provvedimento all'amministratore delegato della Porto Spa Giuseppe Argirò, che ha comunque già annunciato di aver dato mandato ai legali di opporre il ricorso contro il pignoramento. Bisogna ricordare che il fallimento della Spa era stato annullato dalla Corte di Appello di Genova ed è ora pendente la causa per la sentenza definitiva in merito da parte della Cassazione. Allo stesso modo è pendente davanti al Tar anche la questione della revoca della concessione alla Porto Spa e del successivo affidamento della stessa alla Goimperia. Intanto l'amministratore unico di Goimperia, società interamente del comune capoluogo, ha innestato la quarta contro coloro che non pagano i canoni per gli ormeggi. Entro l'estate chi non paga dovrà liberare gli approdi che saranno poi affittati per la stagione direttamente da Goimperia. Anche in questo caso quindi è facile prevedere nuovi contenziosi e nuove battaglie regali.